Secondo i dati pubblicati al Sefer Internet Day i casi di cyberbullismo sono in diminuzione? Sì, purtroppo dopo il Covid quello che è aumentato è la trasgressività e l'aggressività nei giovani e nei ragazzi perché non abbiamo saputo ascoltare l'urlo e la richiesta di aiuto nei nostri bambini e ragazzi perché non parliamo solo di adolescenti e preadolescenti ma parliamo anche di bambini sotto i 10-12 anni e a me questo è un problema non solo italiano ma internazionale quello che secondo me ancora manca è un progetto più allargato, meno a macchia di leopardo e che vada scuola per scuola, casa per casa, famiglia per famiglia ma soprattutto intorno ai ragazzi dove non deve essere utilizzato un termine che si chiama dovete fare ma dobbiamo accompagnarli, mai spingerli Fondamentale in questo contesto il ruolo delle scuole che a Bustarsizio nell'ambito della settimana della sicurezza in rete hanno gremito il teatro sociale con oltre 600 preadolescenti Anche la Lombardia e forse più di altre regioni sta beneficiando di un lavoro meraviglioso che è cominciato negli ultimi anni anche grazie alla legge approvata ormai qualche anno fa dove noi troviamo i ragazzi con una sempre più estesa conoscenza e cultura rispetto ai fenomeni dei rischi nella rete, delle violenze e del bullismo Ora manca il passaggio successivo Dal comprendere bisognerà educare a due concetti importanti che sono quello della responsabilità e alle relazioni La legge 71 ha cercato in tutti i modi comunque di creare una cultura dell'essere cittadini digitali consapevoli ma anche degli strumenti nel momento in cui si riesce in ogni caso anche più consapevolmente a essere nella rete ma in ogni caso a sbagliare Lo facciamo noi adulti, immaginiamo se non lo possono fare i preadolescenti o gli adolescenti Grazie